Intanto oggi è una giornata straordinariamente importante per la mia città e per i miei etenei. Il fatto che l'America sia venuta a prendere la fiaccola del sapere che porterà tutti i valori che sono poi parte integrante del mondo universitario, degli studenti stessi, ci fa pensare che davvero Torino può sfruttare a pieno questa opportunità di poter far partire sempre la fiaccola del sapere da Torino in tutti i paesi del mondo. E questo ci permette anche di creare relazioni. Oggi aver visto i miei rettori schierati come sistema universitario piemontese e iniziare a creare relazioni con l'America, io mi auguro che possano sconfineare non solo nello sport ma anche nella cultura, nell'impegno di tutti noi a formare delle belle persone. E l'impegno di tutti i miei rettori. Grazie a tutti.